Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano Oggi di cosa parliamo? Parliamo delle dichiarazioni di Adrien Rabiot forti 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 perché nonostante sia un giocatore che a me non piace sia dal punto di vista della personalità che dal punto di vista tecnico anche se vogliamo dire certo sicuramente è più bravo di Gobbo Toscano ha già a pallone però però allora cosa fa Rabiot? Cosa fa? Ieri fa una cosa si espone veramente tanto 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 e fa esporre ai media anche alcuni suoi compagni e componenti dello staff andiamo subito a leggere l'articolo riportato da Tutto Sport e le parole del centrocampista francese in forza la Juventus che ha il contratto in scadenza questo giugno quindi prima di tutto iscrivetevi al canale del Gobbo Toscano che è gratuito come avete visto vi porto degli ospiti giudicare top forse sto basso però ce ne saranno altri quindi iscrivetevi, lasciate un bel mi piace commentate 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 ecco qui per quelli che dicevano che la Juventus aveva già tutto tutto pronto no per la prossima stagione quindi giustamente non si arriva da società seria in quanto società seria è importante e gloriosa ma la Juventus non si arriva a maggio con le idee non chiare invece mi sa che qui a maggio qualche idea ancora bisogna metterla a posto allora leggiamo le parole di Rabiot è una situazione complicata da tante settimane per 1 a 1 con la Salernitana e poi continua su Atalanta Juve il futuro i bianconeri adesso dovranno pensare alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta è una partita secca dice ce la giocheremo anche se stanno facendo bene ha aggiunto Rabiot personalmente mi piace di più affrontare squadre forte infine il centrocampista francese ha parlato del suo futuro fin quando non raggiungeremo gli obiettivi non parleremo vedremo quando saremo in Champions League avremo vinto la Coppa Italia e avremo vinto cioè lui dice abbiamo vinto la Coppa Italia vedremo quando saremo in Champions League e avremo vinto la Coppa Italia sono orgoglioso di essere qui oggi avevo la fascia di capitano e mi piace guidare questa squadra giovane ecco perché solo quella puoi guidare insieme a Allegri ma nel calcio bisogna ad un certo punto anche parlare vedremo dopo la finale siamo tranquilli c'è tempo ecco questo è del partito pro Allegri perché sa che se no tutto il minutaggio che gli dà Massimiliano Allegri da un'altra parte non l'avrebbe e quindi altre parole importantissime in tanti non sanno cosa fare ai microfoni di Sky Sport dice parlo di un gruppo non solo l'unico qui in tanti non sanno cosa fare l'anno prossimo anche nello staff in tanti dobbiamo ragionare non so ancora se sarò lì ma devo dare tutto e provare a vincere per mettere nelle migliori condizioni la squadra per l'anno prossimo quindi nonostante il raggiungimento della Champions League nonostante la finale di Coppa Italia abbiamo sicuramente delle cose da da vedere da vedere da vedere qua direi che è una situazione un po' al limite perché perché praticamente si parla di un Rabiot che è dalla parte di Allegri e dice come io neanche alcuni dello staff sanno cosa faranno come dire qua ancora nessuno ci ha detto niente nessuno si è seduto a un tavolo il che è una cosa ma bruttina cioè se così fosse se realmente così fosse posso aprire il discorso di Allegri ma i giocatori penso che al 13 maggio ieri il 12 ma era sera al 12 maggio comunque non sappiano quando hanno il contratto in scadenza un mese dopo non sappiano ancora se faranno parte della prossima squadra o meno oppure se non gli è stata fatta ancora nessuna proposta ma secondo me secondo me è una situazione un po' al limite al limite perché è un momento vicino alla conclusione del campionato e ancora non si sa ma poi può darsi che sappiano ma se sanno allora Rabiot che va lì e dice no no ancora non si sa nulla dovremo parlare ancora con la società e capire cosa faremo perché siamo in tanti a non sapere il nostro futuro cioè è grave sta cosa è grave cioè in balia degli eventi quindi questo mi sta a dimostrare che forse proprio tutto fatto per un allenatore o per l'altro non sia però vediamo e vediamo poi non è che se arriva Tiago Motta dobbiamo dire eh sì perché da gennaio avevano fatto tutto e quindi vi sarà detto no no assolutamente assolutamente perché può essere tranquillamente che da gennaio parlano ma il sì definitivo ancora non credo ce l'abbia nessuno in questi giorni sicuramente lavoreranno soprattutto da mercoledì in poi perché non ci sono più obiettivi né per Juve né per Bologna e neanche di conseguenza per Antonio Conte perché non sta allenando quindi fondamentalmente avranno la possibilità di incontrarsi e parlare quindi vi racconteremo tutti gli sviluppi delle trattative qui sul canale del Gobbo Toscano però alla Juventus una volta non succedeva che uscissero certe dichiarazioni cioè certe dichiarazioni stavano dentro nel gruppo non che Rabiot prendeva il mio profilo e diceva ancora in tanti non sanno cosa faranno il prossimo anno come dico questa è una società di incompetenti per carità è vero ha tutte le ragioni di mondo ma se gli dai la possibilità di dirlo anche pubblicamente vuol dire che la società è proprio alla frutta è proprio alla frutta e non sa che pesci pigliare mi dispiace dire questo perché mi dispiace tanto e mi fa male da Juventino da Gobbo però purtroppo è la realtà dei fatti cioè stiamo molto attenti alle parole di Rabiot dobbiamo analizzarle bene e capire anche quello che è tra le righe come dice il buon Gigi Moncalvo dobbiamo anche leggere quello che non si dice quello che non viene detto quindi dicendo questo Rabiot non ha detto che rimarrà non ha detto che andrà via ma non ha neanche detto fondamentalmente che c'è stato un contatto tra le parti quindi molto probabilmente non c'è stato davvero e qui parlo di giocatori poi vogliamo passare alla parte dell'allenatore lì tutti mi dite voi voi dei social che c'è già tutto pronto io mi fido di voi per carità sono contentissimo se arrivate a Gomotta l'importante ve lo dico io è che Allegri non ci sia più ma non perché è una presa di posizione mia nei confronti di Massimiliano Allegri o per un preconcetto o per una prevenzione ma semplicemente perché in tre anni se non si vede un miglioramento ma solo peggioramenti è l'ora di cambiare detto questo vi ringrazio vi aspetto stasera alle 21.30 live col procuratore un ospite speciale i nostri ospiti fissi ovviamente me ci sarò anch'io il Gobbo Toscano se no so che non mi volete vedere spesso ma ci sarò anch'io quindi per un'oretta mi sorbirete e quindi vi aspettiamo stasera alle 21.30 trovate le storie su Instagram trovate il link già pubblicato sotto nella sezione live troverete un post in community nel pomeriggio di oggi troverete tutto a quelli che hanno il mio numero di telefono glielo manderò via whatsapp quindi saprete tranquillamente tutti come accedere alla live di stasera detto questo vi saluto vi auguro un buon inizio settimana fino alla fine Gobbo Toscano e Forza Juve mi raccomando iscrizione like commenti condivisioni e attivate la campanella delle notifiche ciao